musica 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 ok bello ragazzi io sono Gisus e oggi si riprende con Mega Master Force 2 Zerk Rix Ninja ok nell'ultima parte abbiamo sconfitto i primi 3 guardiani del sigillo ce ne rimancono ancora 6 cosa sto dicendo 4 se i miei calcoli non sono sbagliati perchè in teoria dovrebbero essere 7 in giocare ok primo EF di questi piccoli Terra Condor? non lo sapremo mai comunque io come al solito cerco di prendere tutte le carte ok ragazzi 13 minuti per raccogliere le carte che mi servivano ma ce l'abbiamo fatta chi va là sono vega bene e sono qui per affermare Apollo Flame dobbiamo aprire quel varco posti qualche costi che bella occasione vattene o sono costretto a eliminarti cosa aspettiamo a distruggerlo eh? vattene ti prego ma dobbiamo fermare Apollo siamo gemini sparchi EF qui comandiamo noi SPARESCI! ok ragazzi non pensavo che ci fosse gemini e invece avete visto? hanno vita splittata o divise quando ferite ciò vuol dire che non basta ammazzarne uno dobbiamo ammazzarne tutti e due in teoria porca la miseria se siete delici anche il tuono di gemini è veloce sono tutti due nello stesso punto penso che Piranha faccia anche la vita wow ok non ho tanta vita ma penso un pochino in porta la guardia la guardia ok i fuochi lo metto è molto forte è molto forte ehi ehi ok siete fortissimi si davanti è molto forte eh salve no come hai fatto per me andiamo ragazzi quanto veloce quel punto in generale e praticamente dovete avere quei flash che fanno pover ok ok oh 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 siete fin troppo più impanti anche per essere confusi mamma mia ok dov'è il tuono di gemini andiamo questo può fare veramente male ehi infatti gli abbiamo fatto veramente male cosa? ragazzi è una spada di gemini la sua spada colpisce doppio fermo litte ehi 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 è un po' citare dove siamo finiti su dark souls non so come si chiamassero i due guerrieri del drago ma sono sicuro che eliminandone uno si potenziava l'altro cos'era? una cosa di questo tipo? non lo sapevo mai ok finì tutto lì cancer aveva detto che mi avrebbe portato all'inferno o invece niente niente ok pat tranquillo quello non era pat forza non perdiamo altro tempo ok andiamo il sito di gemini spark è spezzato qui è la mia domanda conviene farmi la piedi o mi conviene uscire dall'omba? sapete che uscire dall'omba e non ci sa per quale motivo io torno qui va bene va bene va bene anzi no sapete cosa facciamo prima di dirigerci al prossimo EF? ho cambiato un'altra idea andiamo dal nostro amico brother auto brother perché avendo almeno ottenuto un 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 sigillo cioè nel senso un come si chiama? una medaglia dell'inizio lui dovrebbe essersi potenziato ehi che piacere oh mi pare che ti sei potenziato ma non riuscirai mai a battermi oh a proposito ho aggiornato i miei dati brother i dati auto brother sono stati aggiornati aggiornamento è terminato resteremo per sempre brother vero? ok quindi il nostro brother si è potenziato in teoria eccolo qua 75 di forza legame quanto abbiamo di forza legame messo? ah un mio iscritto mi ha chiesto di mettere su aeroscar che no no quindi eh non ce l'ho caro mio non mi pare no 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 ok prossimo EF chi sarà mai? dove ci sarà? presumo dal phantom dalla location ok ragazzi sono dal secondo boss vi giuro non riesco a trovare una carta e penso che dopo questo boss mi fermerò qua perchè sono già 44 non lo dico registro e tu chi saresti? sono megaman siamo qui per aprire quel varco ho 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 questo lo vedremo sono il regino PUKIF comando io nella zona della torre IFL credi poter invadere tranquillamente il mio territorio eh? ho 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 birichino ti serve una bella scolacciata davvero? ops ho saltato l'animazione non volevo quanto male potrebbe potrei essere forte ahioi fortissimo già solo perché non c'è il serpente cosa? guarda lì ragazzi sono uno ah penso che questo boss trascinerà con sé le ultime le celebre siamo interventare eh puoi c'è vedere l'animazione guardiamo un lato positivo allora ultimo ego Ok, sprecata quella carta completamente e mi ha anche tolto Porca la miseria Che cosa è veramente schifoso Non mi vedi passacuccio Ovviamente Guardate, ti lascia con l'illusione di poter rimanere vivo Giuro che non ci muovono queste cose Non mi vedi passacuccio Levitate, avete visto? What? Perché a volte? No, non importa Non mi vedi passacuccio Porca amici Come ho potuto perdere contro di te Cosa stai aspettando? Andiamocene Subito Il sigillo della regina Piuca è spezzato Ok, no, ho cambiato idea Ho deciso che voglio cercare ancora quella carta nella discesa E forse avrei dovuto saltare Sì, l'ho trovata Sì, già detto Alleluia Possiamo morire in pace Ok Dove siamo? Plessio Sei tu Plessio Plessio Jejen Cos'è Jejen Ti sei perso il shock ragazzino M Sono Plessio Surfi F Da queste parti comando io Ti vado a giocare un po' con me Quando Apollo si sveglierà Non potremo più giocare insieme Eccolo che arriva Jejen Non so cosa sia Jejen E' lo mio Wuh Sape? Ira Si Si Dovevo fare più questo Chiaramente No Dove ho trovato Meglio che riesce 100 200 Scusa 100 400 200 400 600 E' caro nero E' perchè io ho selezionato due invisibili? Perché sei stupido Per fare qualcosa di questo da dire Ma perché sei stupido da qua? Sarà che sono scontato io? Sì 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 Ma perché sei stupido da qua? Sì 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 Non ho visto quanti punti di vita aveva iniziato Ok, confuso Penso che questa non passa i blocchi Sì Esatto Ho capito come frega Ok Ok, meglio più centrale I pirani attaccano E questa la chiudo E se riesco a colpire Porca miseria Oh cazzo Uno Non basta ancora, mi viene Ok Uno di vita E mi crema Come è possibile? Chi sei tu? Ancora gli chichi Ancora anche il monosso Ancora anche il monosso Andiamo ragazzo Si Il ciclo di Placer Surf E' spezzato Quarto E ultimo EFL Che non ho la mia idea di chi sia Visto che ho sbagliato sui gemini Ho sbagliato su Darth Phantom Fatemi fare un salvaglio Che siamo appena vita Siamo a 97 carte 150 Uff Sei mica bene? Phantom è stato battuto da un insetto M come te? Io in ogni caso non posso permetterti di distrubrare la polla Da queste parti comando io Terra Condori F Arriva Qua Scusate non l'ho resistito Ok In realtà sei più maestoso di quello che mi piace Sì 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 Tu sei completamente inutile Non tornai? Ah sì 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 Scusi Si chiama Contrattacco Io la faccio conoscere E se mi apre Questa non mi ricordo se va oppure no La apriamo E invece si va Ok devo tirare giù i reattori che ha i lati E quindi la faccio conoscere Espero che 300 punti di ando basti eh Sì bastano ok Per un attimo il vicino se lo resti Che se avessi sparato con... no no Oh sì, se avessi sparato Oh sì, se avessi sparato Ai, 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 ai Ai caramba Non ci credo Mi sa che non mi aveva mai battuto Questa simpatica Sa deviare? Chi lo sapeva? Ok, davanti a me Io non potrò scendere, mandi Sì, lo so che non posso andare in me Non ci vuole un giugno Porca miseria Quanti altri controattacchi? Non so neanche si può fermare il volo del combo Non so neanche Gredito Salve lei Allora cosa fanno quelli davanti? Qua, di 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 qua E, per che, di qua, di qua, di qua i piaci? E perché io... ti chico un po etcetera Mi sono troppo corto Ok, sì, si può fermare tu l'attacco. Affermativo. E l'ho fermato anche in modo che la prima dell'ospedale mi stavate già dando giù per me. Questo è un orribile. Non ci credo l'ho evitato. Questa muoia. Oh mio Dio, nemico eliminato. Qua, quella maledetta forza legame. Come ho potuto sconfiggermi. Sotto con il prossimo guerriero, ragazzo. Sì, andiamo. Il sigillo di Terracondor è spezzato. Ragazzi, questo vuol dire che tutti i guerrieri E.F. sono stati sconfitti. Cosa ci attenderà nel prossimo episodio? Veramente non lo so, ma... 1 ora e 31 minuti. Oh mio Dio. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto, ci commento, mettete mi piace, iscrivetevi. Mi raccomando, mettete un fracco di mi piace, perché questa parte è richiesto tanto della mia energia. Quindi noi ci vediamo in un prossimo video. Quindi, vale ragazzi.